Il Parco del Cilento Vallo di Dianio e Alburni, sulla pagina Facebook Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Dianio e Alburni, posta una foto, c'è da dire meravigliosa, del Monte Cervati e poi scrive Il Monte Cervati è un monte dell'Appennino Lucano di 1899 metri sul livello del mare, situato in provincia di Salerno ed è il secondo monte più alto della campagna. Il secondo monte è non quindi la vetta della campagna, riaccendendo così una vecchia disputa che dalle parti del Monte Cervati è una vera e propria battaglia, non solo un campanilismo ma anche un marchio turistico, la vetta della campagna, il Cervati, questo viene detto dalle parti di Sansa, Piaggine e altri comuni che fanno parte del monte. La disputa è con la Gallinola, al confine con il Molise, sui Monti Matesi, alta 1923 metri e cade sia in territorio campano che molisano e sarebbe, a rigore, la montagna più alta della campagna, superando il Cervati di circa 24 metri. Solo che la sua estrema sommità, la vetta insomma, si trova in Molise e non in campagna e inoltre ha il difetto di essere condivisa mentre il Cervati è interamente campano. Da qui, da parte dei Cervatini, se così si possono chiamare, la disputa per far sì che il Cervati sia il mondo più alto della campagna, un'attrazione turistica, una denominazione importante, una battaglia che dalle parti del Cervati vogliono continuare a portare avanti.